Erano le 6 del pomeriggio di domenica 6 novembre 2016, siamo con sonno nel vecchio hotel dopodiché è diventato nel 2001 un ricovero per anziani. Stavamo finendo di effettuare delle riprese di un film quando ad un certo punto tutti i membri dello staff, compresi gli attori, ci allontavamo dal set in quanto dovevano cambiare delle batterie ai faretti. Quello che succede dopo è inspiegabile. Mentre eravamo all'esterno della struttura, notammo sul monitor collegato direttamente alla telecamera che si trovava a 60 metri di distanza dalla base, delle inspiegabili luci, che ora vi mostriamo. Subito allarmati, mandammo uno del nostro staff a controllare, ma non trovò nessuno. Inspiegabili cose successero subito dopo. Delle batterie che si scaricano misteriosamente e poi scopro che in verità erano cariche o faretti che non volevano attivarsi. Inoltre, prima di andare via da con sonno, anche un'auto della troupe non partiva. Con sonno è una città che ancora adesso sprigiona misteri. Speriamo solo che siano positivi e non negativi, ma torneremo presto con altre nuove indagini. Speriamo solo che siano positivi.